Musica Vuoi vincere una skin o devobux gratis su Fortet? Basta riscriverti attivando la campanella, lasciare like e condividere il video Più amici fare scrivere, più possibilità di vincita avrai Non mancherai nelle mie live su youtube se vuoi vincere skin, pass battaglia o vbux Benvenuti a tutti in questo nuovo video In questo nuovo video andrà appunto a vedere tutto il nuovissimo pacchetto leggende estive su Fortet Appunto questo pacchetto dovrebbe essere già disponibile nel momento in cui starete dentro questo video O al massimo sarà disponibile nelle prossime ore Quindi prima di vedere questo nuovissimo pacchetto quando costerà e tutte quante le skin con i loro stili aggiuntivi Vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche se ancora l'avete fatto Così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e le like con lo skin a passata taglia Lascia un bel like e condividi questo video a tutti i miei amici e a me anche lo sanno Tutto questo nuovissimo pacchetto leggende estive su Fortet Quindi partiamo subito parlando di questo nuovissimo pacchetto Infatti questo pacchetto va ad immortalare tre skin Queste tre skin sono appunto delle skin di vecchi pass battaglia però appunto modernizzate a tema estate Quindi appunto posso notare la skin della bananita Una skin appunto che ha diversi stili La bananita sbucciata Poi posso notare la skin che è praticamente una rivisitazione della skin della stagione 6 Quella la del cappuccetto rosso E poi posso vedere anche una rivisitazione della skin di Zoe Quella la della season 4 Quindi andiamo a vedere ogni skin di questo pacchetto per dettaglio Ogni suo stile e anche i loro backpack Che poi andiamo a vedere anche quanto costerà questo nuovissimo pacchetto Quindi prima skin che andiamo a vedere è esattamente la bananita sbucciata Ha il suo primo stile Quindi lo stile semplice col costume e sbucciata Quindi anche questa è una skin diciamo molto bella Ci sta come stile estivo Poi andiamo a vedere il suo stile secondario Che invece è questo qui con gli occhiali e con questo cappello Anche questo stile penso molto a me piace molto di più del primo sinceramente Poi passiamo avanti vedendo il primo stile della skin della cappuccetto rosso rivisitata Appunto a tema estivo Quindi andiamo a vedere questa skin penso sia molto bella Almeno a parer mio di questo pacchetto Quindi andiamo a vedere questo è il suo stile primario E adesso passiamo al suo stile secondario Vediamolo eccolo qui che invece si presenta col cappuccio Però adesso in colorazione è più scura questa skin Però anche questo stile è molto bello Quindi questa skin è davvero bellissima Poi andiamo a vedere la terza e ultima skin di questo pacchetto Che è appunto questa qui di Zoe in versione estiva Questa skin non dovrebbe avere uno stile aggiuntivo Infatti non ha uno stile aggiuntivo E poi infine dopo queste tre skin con i loro stili aggiuntivi Almeno della bananita e del cappuccetto rosso Abbiamo anche i tre backpack Che sono esattamente questi che starete tenendo ora a schermo Quindi davvero anche questi molto belli Quindi quando c'era questo pacchetto Come già detto in subito questo pacchetto Dovrebbe essere già disponibile in Italia Visto che ieri era disponibile già in Nova Zelanda Quindi probabilmente nel momento in cui starete tenendo questo video Sarà già disponibile oppure mancheranno poche ore al suo rilascio ufficiale Quando costarà questo pacchetto Da queste immagini che vedete a schermo In America costa 20 dollari Diciamo in euro 20 dollari sarebbero diciamo 25 euro più o meno Quindi dovrebbe costare sui 20-25 euro questo nuovissimo pacchetto E comunque con questi 25 euro vi porterà a casa tre skin Più i loro stili più tre backpack Quindi davvero un pacchetto diciamo molto conveniente Qui adesso vi lascio anche un piccolo gameplay Che vi mostra per dettaglio ogni skin in game di questo pacchetto E noi ci vediamo a fine video Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo aver visto per dettaglio in game il gameplay di tutte le skin di questo pacchetto Summer Legend sarebbe Leggende Steve Quindi saprei se voi scioperete questo pacchetto Se vi piace qual è la skin preferita Il vostro oggetto preferito di questo nuovissimo pacchetto Quindi spero che questo video vi sia piaciuto Se così vi ricordo di lasciare un bel like Scrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche Così siete sempre aggiornati su questi tipi di video E legge con lo skin o pass battaglia Infine condividete questo video Tutti i miei amici amici E anche loro vedono tutto il nuovo suo pacchetto Leggende Steve su Fortet Noi ci vediamo un prossimo video E una prossima live Grazie a tutti